Buongiorno a tutti, come promesso proseguiamo nella lettura e analisi dei profili biografici scritti da Francesco Saverio Grazioli a proposito dei suoi colleghi. Nel video precedente abbiamo affrontato i primi tre generali della Grande Guerra, Albricci, Padoglio e Cadorna, e adesso proseguiamo con gli altri sempre in ordine alfabetico. Il primo che ci arriva subito dopo Cadorna è Luigi Capello, altro grande generale criticato che ebbe tutta una serie di progressioni di carriera rovesci che si andava un po' anche a innestare, a sovrapporre, a calamitare un po' la carriera di Badoglio e magari lo leggiamo anche nelle parole dello stesso Grazioli, soprattutto in riferimento a Caporetto. Luigi Capello, intelligentissimo, spregiudicato, uomo di vivacissima azione, ambizioso, esuberante, aveva chiare idee e mente aperta alle novità, temperamento vulcanico in contrasto con la grigia atmosfera dominante agli inizi della Prima Guerra Mondiale, sulle nostre alte girarchie militari, dalle quali era poco ben visto. Ma aveva spiccata qualità di comando, che dimostrò in modo egregio alla battaglia di Gorizia e nelle successive azioni sino alla Bainzizza. Si era fatto strada da sé col suo innegabile valore, ma anche con certa sua mancanza di scrupoli con la quale aveva superato ogni ostacolo, una specie di enfant terrible per i posati ortodossi del tempo. La sventura di Caporetto, dovuta più che altro alla deficiente azione di comando di un suo luogotenente, ne arrestò la fortunata cartiera. Chi sarà questo suo luogotenente? Ma anche dopo quello scacco, nei pochi giorni che arrestò al comando, dimostrò rara energia nel ricostituire delle retrovie. Con l'accozzaglia dei fuggiaschi, un'armata capace di ripresentarsi efficiente all'azione. Era senza dubbio una magnifica tempra comandante. Gli nuoceva l'eccessività di certi suoi pregi e difetti e forse una qualche deficienza di equilibrio. Ebbe nemici acerrimi, come le personalità, a forti tinte. L'ambizione politica offuscò alquanto la sua fama di condottiero. E passiamo a Enrico Caviglia. Enrico Caviglia è considerato l'anti-Badoglio, colui che per un accidente non riuscì a ottenere quel posto che ottenne invece Badoglio il 25 luglio del 1943. Enrico Caviglia, schietto temperamento ligure di quella audacia e tenacia che secondo Carducci posa nel giusto e dall'altra mira e si irradia nell'ideale. Tempra volitiva, parole poche e scarne, tutto uomo d'azione, fine e pespicace osservatore. A lui molto giovò in gioventù la missione affidategli presso l'esercito giapponese nella guerra russo-giapponese del 1904, la prima grande guerra del secolo XX. Ne trasse largo corredo di acute osservazioni, passate al vaglio del suo spirito eminentemente pratico. Lo si vide chiaramente nell'esercizio del comando in guerra. Genè di brigata, poi di divisione di corpo d'armata e d'armata, nella guerra XV-XVIII, emerse come tempra di condottiero. A Caporetto tenne in pugno il suo corpo d'armata che si era già coperto di gloria alla bainzizza e lo riportò in colume nella ritirata, ciò che non valse per la bassa invidia di Badoglio, ad evitarne lo scioglimento, mentre ben più a ragione avrebbe dovuto essere sciolto il XXVII che al comando di Badoglio era stato miseramente sfondato. Ma il valore di Caviglia non ne restò sommerso. L'uomo giganteggiò pochi mesi dopo nel comando dell'ottava armata che dopo la vittoria del giugno del XVIII fu la decisiva punta acciaiata che spezzò lo schieramento nemico a Vittorio Veneto ed assicurò la vittoria finale. Magnifica la manovra laterale da lui ideata e attuata per determinare la caduta della resistenza nemica Nervesa, punto cruciale della battaglia. Dopo la guerra fu per poco ministro della guerra. Non era in carico per lui, uomo di comando, alieno dalle beghe politiche e dalle miserie di gabinetto. Si ritrasse sotto la tenda, dedito ai suoi studi e a stendere i suoi concettosi scritti sulle esperienze materiali e morali tratte della sua lacra vita di guerra. Riapparve, rigido qual era la testa del corpo di truppo incaricato di poter fine alla commedia danunziana a fiume, che minacciava di cadere nel ridicolo e fu implacabile restauratore delle tradizioni di lealismo e di disciplina, vanto secolare del nostro esercito, contro la generosa ma centrifuga fantasia del soldato poeta. Poi ritornò nell'ombra, intento soltanto a raccogliere di sua iniziativa nozioni utili su quanto facevasi all'estero in maniera di radicali riforme. Ed il frutto dei suoi studi portò nel consiglio dell'esercito dove fu sempre esponente e illustre della corrente progressista. Aveva mente eclettica, non si schiudeva nel ristretto ambito del sapere militare, possedeva anima d'artista e delle arti belle fu conoscitore e raccoglitore assiduo, competente ed apprezzato. Era in relazione con la personalità più spiccata dell'arte e della scienza, scrittore denso di idee e di stile robusto. Pubblicò opere che fecero testo. Nella tremenda crisi dell'8 settembre la sua virile figura fu la sola nell'alta girarchia militare che si levò autorevole per tentare di porre riparo allo sfocello prodotto dal modo bestiale con cui fu manipolato e attuato l'armistizio. Che parole. Purtroppo in vano perché la situazione era già troppo pregiudicata dall'incredibile ignavia con la quale le forze armate italiane erano state abbandonate a loro stesse per la fuga dell'alto comando. Fu senza dubbio il migliore fra quanti uscirono dalla prima guerra mondiale con il grado di maresciallo d'Italia. Nella lettura della descrizione di Caviglia si sente molto di autobiografico. Possiamo dire in qualche modo che Grazioli è un po' l'alter ego di Caviglia. Si rispecchiano molto tra loro due e Grazioli sicuramente ha trovato in Caviglia un elemento, un senso di identificazione, di volere emulare e si nota anche nella grande partecipazione, nel grande desiderio di rappresentare un uomo intergerimo, capace, schietto che si contrapponeva un po' a tutto quello che c'era di nefasto invece nel personaggio. Badoglio. Alfredo Dall'Olio. Alfredo Dall'Olio un tecnico di grande spessore, ma lo andiamo a vedere, sottosegretario, ministro degli armamenti, una delle grandi, come si dice, menti, eminenze grigie proprio dell'apparato della gestione della prima guerra mondiale, ma anche di quello che è successo dopo, perché lo vedremo come fu uno dei grandi che portarono in qualche modo, cercarono di svecchiare fino agli anni trenta, ovviamente poi con Alterni Vicente poi ci sarà la successione con Favagrossa, ma se avete interesse magari andate per vedere il video che ho fatto su Favagrossa in cui accenno anche un po' a Dall'Olio. E Dall'Olio. Espertissimo artigliere della vecchia, gloriosa tradizione artiglieresca italiana. Tecnico, illustre, intelligente, organizzatore. Minuto, preciso, famoso per la sua formidabile memoria, che non ebbe limiti di età, sicché, sebbene novantenne, dava dei punti ai suoi giovani collaboratori. Nella guerra 15-18 tenne il sottosegretariato delle armi e munizioni e in modo così egregio che a lui si dovette principalmente il rapido e poderoso riarmamento del nostro esercito dopo la sventura di Caporetto e la messa a punto delle artiglierie per le due grandi battaglie del Piave e di Vittorio Veneto. Dopo la guerra e durante il ventennio fascista, sebbene già vecchio fu uno degli esponenti più fattivi della Commissione Suprema di Difesa dello Stato e chi scrive lo udì sempre parlare in quell'alto consesso con rara competenza tecnica, con spregiudicato coraggio, denunciando apertamente deficienze e formulando proposte sollecito soltanto di contribuire con l'usato valore alla potenza mitale del Paese. Questa era la sua sola ambizione e forse perciò tutti lo stimarono e lo amarono anche per l'umana bontà dell'animo. Che dire. Antonio Di Giorgio, poi mi pare che si chiamasse Antonino Di Giorgio, comunque grande personaggio che è stato anche ministro della guerra, fu impallinato alla metà degli anni venti perché aveva delle grandi idee, delle idee di riammodernamento dell'eserci ovviamente che davano fastidio alla vecchia classe politica. Stranamente in quel momento si unirono le volontà di Badoglio e dei Cavallero, poi visto che Cavallero divenne sottosegretario prendendo di fatto il posto di Dall'Olio e scusate di Di Giorgio in qualche modo iniziarono i problemi tra Cavallero e Badoglio, ma in realtà per impallinare Di Giorgio in quel momento i due Monferrini avevano le armi serrate per cogliere e per mettere in difficoltà questo validissimo generale. Di Giorgio, intelligente, colto, pronta all'azione e quando era necessario alla polemica, talvolta aspra, puntigliosa, mordace, fogoso temperamento siciliano, dette nella grande guerra prove luminose di alta capacità di comando sul grappa e più ancora la testa di un corpo speciale che protesse con abile manovra sul tagliamento, la scompigliata ritirata della seconda armata dopo Caporetto. Nei primi anni del regime fascista successe a Diaz, ammalato, nella carica di ministro della guerra e in tale incarico dimostrò spiccate qualità di energico e lungimirante riformatore, proponendo un nuovo ordinamento dell'esercito ispirato alle reali condizioni del bilancio e alle nuove esigenze tecniche della guerra. Non fu capito dalle alte autorità militari del tempo, immobiliste ed ancorate al passato. Dovette sostenere in Senato un'implacabile opposizione che fronteggiò, secondo il suo temperamento, con astiosa e vigorosa coerenza. L'intervento del capo del governo valse a trovare una via d'uscita e fu deciso di riprendere da capo l'esame dell'ordinamento. Naturalmente Di Giorgio si dimise. La morte lo avrebbe colpito prematuramente. E qui vediamo un po' anche il segno delle possibili riforme mancate nel periodo fascista e la decisione di estromettere di Giorgio fu la vittoria della componente un po' passatista, un po' legata al mulo, legata alla fanteria regina delle battaglie che ovviamente lo stesso Grazioli avversava e avrebbe avversato per tutto il periodo in cui scrisse o potesse in qualche modo essere un metro. A pensi. E passiamo ad Armando Díaz. Esempio tipico della capricciosità delle umane fortune. Per molti anni da ufficiale superiore, metodico e modestissimo segretario del comando del corpo di Stato Maggiore. Nessun indizio di spiccate qualità né culturali né di comando. Uomo d'ordine avverso e d'ardite novità. Dote precipua l'astituità e la soquente obbedienza alle direttive superiori. Ma nella guerra libica si rivela buon comandante di reggimento, saggio e valoroso, pur non uscendo dalla sua naturale modestia. Nel primo periodo della guerra 15-18 lo ritroviamo a situo collaboratore del comando supremo per le questioni relative al personale. Poi al comando di una divisione e di un corpo d'armata, dove si comporta assai bene pur senza svelare nessuna brillante qualità che lo distingua fra gli altri sui quali grado. Ma in quel comando è notato con particolare simpatia da Dretti Vittorio Maggiore III, forse per un'evidente affinità di carattere, ostile a tutto ciò che sapesse di qualche genialità, anche come contrasto all'esuberante e poco comoda personalità del Cadorna, per il quale il sovrano era tutt'altro che tenero. Succede Caporetto, Cadorna è liquidato e su successore nel comando supremo viene chiamato, con sorpresa di tutti, Armando Diaz. E costui porta nel supremo comando tutta la grigia gamma delle sue qualità intellettuali e tecniche, ma anche le innegabili, i suoi doti di cuore che lo fanno particolarmente sollecito nel benessere del soldato, fino allora troppo trascurato. A parte questo lato lodevole della sua azione di comando, Vano sarebbe tentare di rintracciare lui un'influenza personale direttiva nelle grandi e vittoriosi operazioni che seguirono. Egli si limitava a non ostacolare con interventi inopportuni l'opera dei suoi collaboratori nel comando, tra i quali alcuni giovani intelligentissimi, tra cui lo stesso Grazioli. Con la disciplina, la duplice vittoria del Piave di Vittorio Veneto, la guerra è vinta. Diaz firma il celebre bollettino finale e diventa niente meno che duca della vittoria, titolo che nessuno dei più grandi capitani della storia d'ogni secolo e paese poté mai vantare. Quello che Grazioli ritiene essere non un fulmine di guerra, ma un buon amministratore, colui che sostanzialmente fa lavorare i suoi collaboratori senza interferire, vi pare poco. Nel senso che possiamo dire tante cose di Catorna, però secondo me il vero tallone d'Achile di Catorna era quello di voler mettere bocca su tutto, quello di non dare ampia, e quando ovviamente serviva, libertà e autonomia ai suoi sottoposti. E questo secondo me è l'elemento premiante per l'ultimo anno di guerra rispetto ai due e mezzo precedenti. Il fatto che Diaz, nonostante non fosse un ardimentoso, non brillasse di caratteristiche preminenti nell'aspetto di guerra generale, ma rappresentava un metodico, una persona che comunque sapeva ascoltare, e qui emerge l'elemento, permettetevi, della napoletanità rispetto alla piemontesità di un Catorna, dove alla fine la capacità di relazione, la capacità anche di creare un gruppo di validi collaboratori, tra cui bisogna dirlo c'era anche Badoglio, ha permesso appunto, che poi era un po' il deus ex machina, insieme anche a Cavallero, di tutto ciò che sarebbe stato di organizzativo, del reparto operazioni nella gestione dell'ultimo anno di guerra, bene, proprio questo elemento secondo me è premiante e dà onore a un uomo che appunto, come dicevamo, non aveva grandi prospettive, il fatto di essere balzato dalla sera alla mattina da comandante di corpo d'armata a generale dell'esercito, cioè generale appunto del comandante supremo dell'esercito, rappresenta in qualche modo anche l'occasione per dare a personaggi di secondo ordine l'occasione di realizzarsi e di poter fare appunto beneficio all'intero esercito, all'intero paese. Per questo momento finiamo qui con questi quattro pezzi a 90, poi proseguiremo con altri generali sempre in ordine alfabetico, ma mi sembra che già da queste due prime video abbiamo anche una composizione, una analisi molto di ampio spettro in cui l'aspetto biografico non va a ostruire elementi di analisi più generale che si inseriscono anche nelle varie vicende nazionali e non solo prettamente belliche. Detto questo, come alzo vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!